ciao e benvenuto su home recording semplice il canale che tratta con semplicità l'home recording home recording semplice perché per due motivi uno perché cercheremo di spiegare concetti difficili o complessi a volte in maniera semplice semplice perché cercheremo di non spendere tonnellate di soldi per farci un piccolo studio di registrazione cominceremo dalle basi fino ad arrivare a un livello semiprofessionale perché sono convinto che poi se vogliamo fare proprio una cosa fatta bene ci sono gli studi di registrazione e ci sono dei fonici che fanno il loro mestiere detto questo di cosa abbiamo bisogno per fare un piccolo studio di home recording o almeno per iniziare abbiamo bisogno di un pc di una scheda audio di un paio di casse monitor o di cuffie e di una dow o digital audio workstation bene questi sono gli elementi essenziali essenziali e principali per il nostro lavoro andiamo a vedere adesso nel dettaglio il pc e il cuore del nostro o la mente più che altro di tutto il nostro lavoro un pc che sia mac o che sia windows l'abbiamo tutti in casa alcuni di voi avranno anche un ipad o un iphone o un android e molte persone riescono anche a fare musica con quelle ma penso che almeno un portatile un laptop o un pc fisso desktop ce lo abbiamo tutti in casa quindi non scenderò nel dettaglio sul computer in quanto le prestazioni dei computer moderni sono abbastanza performanti per quello che andremo a fare vediamo adesso invece la scheda audio la scheda audio è l'interfaccia di comunicazione tra noi o meglio i nostri strumenti e il computer la scheda audio si collega tramite usb thunderbolt o firewire al nostro computer e gestisce il segnale audio appunto digitale che va dallo strumento al computer e dal computer alle casse processa il segnale e lo converte è ovvio che non ci fideremo della scheda audio integrata nel nostro pc ma appunto compreremo una scheda a parte dedicata ai processi musicali casse o cuffie sono il nostro output cioè da dove esce il suono e appunto ne esistono di varie misure modelli costi per iniziare noi potremmo prendere un paio di cuffie in quanto sono più vantaggiose costano meno ingombrano meno non hanno la riflessione delle stanze quindi riverberi e rumori vari e poi non disturbiamo i vicini mentre lavoriamo quindi possiamo lavorare anche di notte la DAW digital audio workstation o come dicono alcuni la DAW è il programma che va installato sul computer per la gestione della registrazione e della processazione delle tracce audio senza di questo programma il computer o la scheda audio non saprebbe dove mandare le tracce che stiamo registrando quindi è una sorta di mixer digitale che ci permette di assegnare delle tracce registrarle e dopodiché manipolarle ne esistono di vari modelli di vari tipi gratuiti e non gratuiti e questo lo andremo a vedere nei prossimi video quindi grazie di avermi seguito cliccate sul mi piace del canale seguitemi anche su facebook ci vediamo al prossimo video grazie a tutti